Lago di Montedoglio 22 e 23 giugno è il primo trofeo match race vento nel buio Alessandro Gaoso progetto Omerus, sbaglio? Io le faccio i miei più vivi complimenti per quello che hai riuscito a creare Sì, è vero, è vero, è stata una cosa anche di fortuna perché è nato dal fatto che io mi sono addormentato in barca e la barca continuava a navigare regolarmente Questo è avvenuto in una regata molto lunga dove ero stanco, come si dice, ero cotto Dopodiché, prima di arrivare al traguardo, il fatto si è verificato ancora una decina di volte Insomma, il fatto che questo mi ha indotto a pensare il giorno dopo e da qui ha cominciato le mie due nature, quello di tecnico e quello di velista da collaborare assieme Il velista poneva le domande, il tecnico le rispondeva e dava le risposte e finché alla fine il velista non ebbe più domande da porre Dopodiché mi accorsi di aver inventato qualche cosa di nuovo Allora andai dai cecchi che erano raccolti in una festa di fine d'anno e dissi loro, voi siete capaci di una prudezza che ancora non conoscete che è quella di andare in Marcavila da soli E lì loro furono i primi scettici, cominciarono a scrollare il capo e cominciarono a dire di no che era troppo, che era impossibile, eccetera Ma sei di loro vollero provare, vennero, provarono e si accorsero immediatamente che la cosa invece era fattibile e allora l'entusiasmo è stato enorme Parliamo del lontano 1996, quanta acqua è passata sotto i ponti in questi oramai 17 anni? Ecco, sono 17 anni di acqua sotto i ponti, però i successi che abbiamo ottenuto sono tantissimi Il primo successo è stato quello di riuscire a combattere coloro che volevano appropriarsi della paternità di Omerus E non erano solo italiani, erano anche stranieri Non nomino le nazioni che hanno tentato di farlo, ma hanno tentato E non hanno potuto farlo perché la nostra attività era così intensa che il loro plagio, diciamo, non poteva essere perché ormai in poco tempo eravamo conosciuti in tutto il mondo E dopo, naturalmente, vale per pena di ricordare che abbiamo istruiti più di sui 250 cerchi circa sul lago di Garda 10-12 nazioni che vengono naturalmente con dei velisti che ci vedono per imparare il metodo da noi e poi insegnarlo a casa loro perché ovviamente noi siamo troppo piccoli per insegnare a tutto il mondo bisogna creare delle scuole e così noi stiamo facendo L'importanza di questo progetto è anche per il premio Lei è stato insignito del premio della Bontà Motta e del premio Panathlon Fondi poi devoluti in favore del progetto Omerus, no? Sì, 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 sono fondi, sembra che siano c'è qualcosa Sì, sono dei piccoli rigesti, diciamo, economicamente visti ma come premi, naturalmente, hanno una bella importanza ma quello che mi ha maggiormente appagato, diciamo, è la nomine di cavalierate il presidente della Repubblica mi ha dato il cavalierate insomma, quello è quello che mi ha appagato di più Lei parlava di lago di Garda è chiaro, non possiamo fare un parallelo tra lago di Garda e invaso di Monte D'Oglio però, questo bacino, che potenzialità ha? Allora, quello che conta non è tanto la dimensione del lago oppure del mare, eccetera, no? perché tanto noi occupiamo un piccolo spazio per fare il nostro match race può essere lungo due o trecento metri largo due o trecento metri e finisce lì no, quello che è importante, invece, è la zona da qui, se lei guarda giù ci si trova su una tribuna questa è una tribuna per cui si riesce a vedere praticamente il match race dall'alto ed è veramente straordinario mentre se lei lo vede dal livello del lago non è tanto bello o tanto comprensibile perché bisogna pensare alla gente che vede perché i regatanti evidentemente regatano giù però tutti coloro che guardano guardano da qui e dico la verità un posto come questo è difficile trovarlo raramente ne parlavamo anche ieri con gli altri giudici con gli altri comitati di regata, eccetera è veramente un posto che merita e dopo devo dire devo fare un complimento naturalmente qui al circolo velico e al suo presidente vicepresidente 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 sono sicurissimo comunque Stefano vicepresidente Stefano Provincia ecco vicepresidente Stefano Provincia che si sono dati da fare moltissimo sono molto attivi e molto motivati anche quindi tanti complimenti Danilo Malerba è uno dei skipper che ha gareggiato oggi al lago di Montedoglio che dire come ti è sembrato il lago? il lago è una realtà particolare molto bellina molto carina perché nel punto dove si trova insomma nel punto dove è dislocato risulta essere una risorsa importante per il circondario per la vela e si è visto comunque l'organizzazione fantastica e quello che sono riusciti a fare i ragazzi qua al circolo del remo e della vela di Montedoglio cioè è una realtà piccola ma è davvero in forte crescita soprattutto da tenere d'occhio per il rispetto dell'ambiente che hanno e per il modo in cui fanno le cose veramente una realtà bella da continuare a visitare il lago di Montedoglio che gara è stata scendendo nel tecnico? allora è stata una gara una gara di match race la cosa bella è che le gare di Omerus vengono disputate utilizzando i regolamenti dei regolamenti normali non delle regole particolari per non vedenti si tratta sempre della stessa competizione della Coppa America una barca contro un'altra barca che sono uguali quindi equipaggi da due e sfide all'ultimo bordo i prossimi impegni perché sappiamo che avete tanto da fare soprattutto adesso che l'estate è in pieno svolgimento in piena esplosione finalmente l'estate dopo una stagione molto piovosa a parte che il velista e il regatante purtroppo non si ferma nemmeno con la pioggia perché se ci sono delle regate importanti deve farle però ecco noi il 13 e il 14 di luglio saremo su un altro lago artificiale in Toscana a Barberino del Mugello a fare un'altra regata sul lago di Bilancino con due barche due J24 messe a disposizione dal circolo nautico del Mugello e sarà anche lì un bello spettacolo perché arriveranno ospiti eccellenti quindi campioni un po' nazionali nostri vecchie conoscenze sarà davvero divertente Claudio Marcelli vice sindaco di Pieve e Santo Stefano oggi per il lago di Montedoglio ma io direi per l'intera Valtiberina è una bellissima giornata assolutamente venire giù al lago nel nostro territorio trovare tanti cittadini della Valtiberina tutta dall'Umbria alla Toscana insieme a gareggiare e a collaborare a questa importante iniziativa è bello è stupendo è al centro Pieve e Santo Stefano fantastico c'è voglia da parte di tutti gli amministratori ed è una voglia Bipartisan di far sì che questo invaso diventi un bacino oppure che questo bacino diventi un invaso poi me lo spiegherai lo spiegherà lei qual è la differenza per far sì che finalmente oltre che per uso potabile idrico agricolo possa un futuro diventare anche per uso turistico è possibile ma guardi dal punto di vista urbanistico tutto è possibile perché la buona pianificazione fatta dal comune di Pieve e Santo Stefano prevede in ogni area attività certo in linea con quello che è la tutela dell'ambiente la verità in assoluto è che questo lago ancora non sappiamo esattamente che cos'è non ne sappiamo soprattutto dopo l'incidente a corso ormai quasi tre anni fa non sappiamo quando verrà risolto il problema non sappiamo quale è l'entità finale del problema e soprattutto è un importante bacino d'acqua che è nato per altre finalità che dire sicuramente la pressione fatta con iniziative come quelle di oggi e altre iniziative che magari possono nascere possono indurre a chi veramente decide della destinazione dell'acqua di Montedoglio a prendere strade diverse certo un lago abbandonato darebbe mano libera a chiunque a decidere sopra le nostre teste un lago vivo potrebbe impedire iniziative sbagliate e questo di oggi è una grande dimostrazione di vitalità Stefano Provincia il vice presidente del circolo del remo della vela di Montedoglio allora lo facciamo questo bilancio di questa due giorni dedicata alla vela tanto entusiasmo e soprattutto ci dicono se è una manifestazione venuta bene il bilancio è più che positivo più che positivo perché queste due giornate sono state due giornate che hanno significato molto per noi del circolo del remo della vela molto per i ragazzi di Omerus ma soprattutto molto per lo sport in genere il bilancio è positivissimo le due giornate sono state ottime gli atleti sono stati squisitissimi che sono di una compagnia eccezionale e quindi cosa dire prossimo anno cercheremo di reinserire questo nel circuito Vittorio-Leonesio sperando che venga ancora meglio di quest'anno quello è un obiettivo che vi siete prefissi già dalla conferenza stampa di presentazione che cosa occorre che cosa serve per far sì che questo accada per poter fare il prossimo anno il circuito nazionale che poi Vittorio-Leonesio occorre lavorarci sopra occorre che le amministrazioni prendano in seria considerazione il fatto che questo lago perché poi il punto è questo questo lago abbia la necessità di avere o che gli venga comunque riconosciuta l'importanza che ha devono essere stabiliti i livelli dell'acqua devono essere stabiliti il troppo pieno e le varie escursioni però noi del circolo del Remo della Vela ci siamo impegnati in questo lo faremo e lo proseguiremo è ovvio che in questa fase tutti devono lavorare non solo noi noi siamo velesti che viviamo qui e che godiamo delle bellezze del territorio e quant'altro siamo tutti appassionati amanti di Omerus amanti della vela però nella realtà dei fatti è sul territorio che bisogna lavorare bisogna sviluppare anche questa forma di credo verso il mondo della vela perché è una tipologia di vita un po' particolare bisogna credersi bisogna lavorare sui bambini bisogna lavorare sulle scuole e a noi ci manca molto ancora noi come giustamente hanno detto chi prima di me noi siamo un piccolo circolo velico che andiamo avanti solo ed esclusivamente con il volontariato di tutti anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i soci ma anche tutte le persone esterne al circolo che ci hanno aiutato in questa in questa corsa altrimenti sarebbe stato impossibile farlo insomma ecco